Oggi giornata di martedì, giornata di Marte, giornata di azione, giornata di forza, giornata di coraggio, ma una giornata particolarmente importante per i segni d'acqua. Vediamo sinteticamente quali sono le evoluzioni planetarie più significative di oggi e poi per quale motivo segno per segno fra un po'. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astro Love, il mio canale è dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline allistiche. Vediamo cosa vanno a raccontarci gli astri per oggi, martedì 22 novembre 2022. Giornata come abbiamo detto inizialmente appunto importante per i segni d'acqua, con questa presenza acquea della luna nel segno dello scorpione, si fa particolarmente sentire per i nati la prima e la seconda decada e così come per i nati sotto il segno dei pesci, del cancro sempre della prima e seconda decada. In realtà la giornata di oggi però è anche abbastanza importante e significativa un po' per tutti, ma soprattutto per i segni di fuoco ed in particolare il sagittario. Questa mattina infatti alle ore 9.20 il sole esce, si allontana dal segno dello scorpione e entra appunto nel segno del sagittario. La sua energia va ad aggiungersi a quella già presente nel stesso segno di mercurio di venere, sempre particolarmente se appartiene alla prima decada e anche prinati sotto il segno del leone e dell'ariete, sempre prinati la prima decada. Quindi cambio di registro, cambio di tono un po' per tutti, questa energia che ci ha accompagnato nell'ultimo mese, questa sorta di tendenza così più introspettiva, più silenziosa, più osservativa, più anche diffidente a volte, tutte queste tendenze scorpioniche lasciano spazio a questa nuova aria, questo entusiasmo, questo ottimismo, questa ampiezza di questo sagittario governato appunto da Giove che tutto dilata, tutto amplia, che porta alla veramente dilatazione di ogni situazione con soprattutto un atteggiamento positivo, ripeto, e entusiasta. Quindi sicuramente un'energia che si fa sentire ovviamente per il sagittario, ripeto, per il segno delle ariete, per il segno del leone e analogamente questa ampiezza, questa dilatazione così forte potrebbe così essere ancora disturbante oltre che a questa energia che abbiamo già citato di mercurio di venere, un pochino per il segno dei gemelli e analogamente anche per il segno della Vergine e per il segno dei pesci. Quindi questo senso di necessità di ponderare, di procedere con metodo, di analizzare una situazione tipica del segno della Vergine potrebbe così andare un po' in, non dico in tilt, ma sicuramente risentire di questa presenza solare che appunto va aggiungersi a questo modo di pensare molto, non dico semplicistico, ma agli opti della Vergine possono sembrare così di modalità un po' troppo leggera, un po' troppo non aderente a quella realtà e anche nel modo di rapportarsi affettivamente, considerata questa presenza di venere sempre nel segno sagittario, per il segno delle Vergine può sembrare un modo così un po' troppo scarsamente aderente a quei parametri che appunto tu Vergine consideri importanti, sempre se appartiene nella prima decada. Anche per quell'atteggiamento così portato alla socializzazione, all'apertura per quanto riguarda il segno dei gemelli, questa triede di pianeti sagittariani è come se spostassero tutto questo ambito di apertura su un binario un po' troppo eccessivo in un certo senso, per questi parametri già importanti dei gemelli è come se potrebbe essere così un momento di modalità che può non rientrare in quelli che sono i canoni abituali. Analogamente la pressione dei pesci, questo atteggiamento così molto aperto agli occhi dei pesci, un po' più superficiale, più di entusiasmo, fin da subito può cozzare un po' con questa necessità da parte dei pesci di andare un po' più in profondità, di capire, di prendersi dei tempi in un certo qual modo per comprendere le situazioni, comprendere le persone a cui si va incontro. Quindi un momento molto particolare da oggi per i nati della prima decada di tutti questi segni soprattutto e contemporaneamente come detto c'è questa presenza lunare di oggi che anch'essa per il segno dello scorpione risulta sì positiva, però c'è questa contemporanea presenza anche di urano in posizione così reciprocamente non troppo positiva rispetto alla luna che è come se risultasse disturbante per il segno dello scorpione. Quindi sì profondità, sì intensità, sì capacità di andare al di là dell'apparenza con grande intuitività, però è come se questa necessità, questo bisogno di andare a fondo cozzasse in un certo senso o andasse in posizione speculare rispetto alla necessità e dar peso a delle situazioni concrete che come se si presentassero in maniera inaspettata. Questa situazione così un po' particolare potrebbe farsi sentire anche per il segno del leone, per i nati della prima e della seconda decada e in parte anche per il segno dell'acquario. Quindi giornata un po' particolare per questi segni soprattutto, per il segno del capricorno, una modalità più aperta in generale di rapportarsi con le persone della situazione rispetto all'ultimo periodo vissuto magari in maniera più strategica, più occulta anche per te e sicuramente anche per l'acquario un aspetto molto liberatorio per quanto riguarda il tenore generale che va ad aggiungersi a questa presenza già positiva di questi ultimi giorni sia del mercurio che di venere. Analogamente per il segno dello scorpione è un cambio di registro rispetto a questa energia propria così intensa, così sentita rispetto all'ultimo periodo che porta ad essere un po' più aperti, un po' più comunicativi e un po' più espliciti nel proprio modo di porsi. Questa è un'estrema sintesi, ma entriamo nel vivo e vediamo segno per segno cosa ci raccontano gli astri quest'oggi. Planetarium in arrivo a dicembre. Iniziamo da te grintosissimo, Ariete, giornata decisamente ottimale, energia in campo che evolve veramente a tuo pro, questo sole in arrivo della mattina di oggi che ti porta veramente questa carica energetica decisamente inusuale, positiva con un'enfantizzazione di quel tuo già innato entusiasmo sicuramente viene ben accolto, soprattutto se appartiene alla prima decade. Quindi grande carica, grande forza, grande capacità di entusiasmarti ed entusiasma negli altri. Questa energia positiva del sole di oggi si va ad aggiungere all'energia già positiva di mercurio di venere, quindi una positività a tuo curo in generale nella giornata, negli ambiti più seri e professionali, nell'ambito dei rapporti con le persone a cui più tieni. Quest'oggi c'è comunque anche spazio per una certa emotività di tipo abbastanza profondo, di tipo abbastanza più sentito per così dire, con questa luna che porta l'attenzione da parte tua anche su tutto ciò che non è necessariamente immediatamente visibile. Quindi una giornata che viaggia su questi equilibri molto particolari, equilibri di apertura, ma allo stesso tempo anche di attenzione verso tutto ciò che non necessariamente emerge, non necessariamente è visibile fin da principio, fin da subito. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata. Ti aspetto! Per te costante e coerente Toro, giornata decisamente molto significativa. Finalmente, dopo le ultime settimane in cui soprattutto se appartiene alla ultima decada e in parte anche la seconda hai potuto così risentire di questa energia solare non troppo positiva in grado di smorzare il tuo consueto tenore, farti sentire un po' così sotto tono, finalmente oggi questo sole non troppo favorevole si allontana e c'è una sorta di ritorno alla normalità, una sorta di atteggiamento da parte tua, di positiva fiducia anche nei confronti delle situazioni, delle persone che ti si presentano davanti e quindi un buon ricupero del tuo consueto equilibrio. Contemporaneamente appunto sei in grado anche di distaccarti in un certo senso da quell'atteggiamento che normalmente ti caratterizza di aderenza per così dire a tutto ciò che è concreto, che è pratico, che è immediatamente realizzabile con un atteggiamento sicuramente più ottimista che guarda in avanti con un senso di fiducia, non necessariamente così focalizzando l'attenzione su ciò che già c'è, su ciò che già esiste. Quindi un atteggiamento più positivo, un atteggiamento che si distacca da quella tua magari prudenza normale, ma che ti porta comunque ad avere dei buoni vantaggi sia nell'ambito di situazioni private, sia ancor più in situazioni di ambito più professionale. Ti piace l'astrologia? Partecipa ai miei corsi anche personalizzati. Scopri di più nell'info box qui sotto. Continuiamo con te frizzante e intelligente gemelli che va incontro una giornata dai connotati delicati, soprattutto se appartiene alla prima decada e quest'oggi potresti risentire di questa evoluzione astrale importante di oggi del Sole, la cui energia non troppo favorevole va ad aggiungersi a quella di Mercurio e di Venere. Nulla di particolarmente importante, nulla di particolarmente incisivo, c'è una sorta di specularità, proprio come lo è nella nella sfera celeste, di questo tipo di energia che risulta proprio non in linea con il tuo consueto modo di porto, con il tuo consueto modo di relazionarti nei confronti delle persone e delle situazioni e che ti potrebbe portare così a fare delle valutazioni non necessariamente aderenti alla realtà che ti si trova di fronte. Quindi c'è una sorta di eccesso di ottimismo in certe situazioni, nulla di eccessivamente preoccupante, ma nel tuo incede, nel tuo valutare, nel tuo progettare, tutto sommato potresti renderti conto che anche nelle situazioni di poco conto o nelle situazioni che riguardano i rapporti con le persone a cui sei più vicino, a cui più tieni, certi tuoi punti di vista, certe tue percezioni potrebbero non corrispondere alle realtà che ti trovi di fronte o alle realtà che le altre persone vorrebbero porti e che non è esattamente così collimante con quella percezione un po' sfalsata che potresti avere. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata. Ti aspetto! Per te sensibile ed emotivo cancro, una giornata dei connotati importanti, l'allontanamento del sole rappresenta una sorta di ritorno alla normalità, ritorno alla prassi per quanto riguarda il tuo tenore generale, la tua buona forma e quindi una sorta di allontanamento da quel tenore aggiuntivo che puòverti contraddistinto per quanto riguarda anche un modo di porti più incisivo se appartiene all'ultima decada. Quest'oggi però se appartiene alla prima e alla seconda puoi sicuramente godere di questa presenza decisamente favorevole della luna che riesce una volta di più a enfatizzare quel tuo lato più profondo, più anche intuitivo, più che va al di là dell'apparenza delle situazioni. È un modo che ti è affine, è un modo più apparentemente silenzioso ma non per questo attento a tutto ciò che appunto ti circonda, le persone che si relazionano con te. È un modo diverso, un modo più implicito ma che questa luna riesce veramente a colorare nel tuo modo di porti un po' in tutti gli ambiti sia privati che professionali facendoti sentire appunto emotivamente perfettamente in equilibrio. Una giornata che comunque evolve all'insegna di situazioni di maggiore apertura, di maggior fiducia anche rispetto al consueto, rispetto a quei parametri di normalità e di abitudine che normalmente consideri imprescindibili. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata. Ti aspetto! Continuiamo con te maestoso e carismatico Leone che va incontro a una giornata decisamente ottima nonostante appunto ci sia qualche nuvoletta all'orizzonte come si suol dire per quanto riguarda il tuo umore. Proprio in merito a quest'ultimo potresti risentire se appartiene la prima e la seconda decada di questa presenza un po' disturbante sia della luna che di urano che potrebbero così alterare quella apertura, alterare un po' quel modo molto schietto, molto così fiducioso che invece altri influssi astrali che fra poco andremo a analizzare riescono a conferirti. Quindi emotivamente potresti sentirti un po' sfasato e sfasato, una cosa molto temporanea ma che potrebbe riversarsi soprattutto in quei contesti di tipo pratico o in quelle situazioni in cui qualcuno più vicino a te potrebbe così suscitare in te dei dubbi. Positivissima invece la presenza sempre per i nati della prima decada e da oggi del sole finalmente non più dissonante come lo è stato negli ultimi giorni per i nati dell'ultima decada e quindi grande entusiasmo, grande carica, grande ottimismo la cui energia va ad aggiungersi a quella già positiva sia di Mercurio che di Venere sempre se appartiene alla prima decada e quindi un atteggiamento che ti appartiene maggiormente di saper coinvolgere le persone che ti sono vicine con una capacità veramente di entusiasmarti ed entusiasmare in senso veramente positivo un po' in tutti gli ambiti privati e anche professionali. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata, ti aspetto. Per te metodica e razionale vergine è una giornata dai connotati abbastanza delicati, c'è un'energia in campo che riguarda la tua emotività, il tuo umore nell'insieme positiva se appartiene alla prima e la seconda decada e con questa luna positiva che riesce appunto a enfatizzare quei tuoi lati che magari nuovamente non emergono eccessivamente, un lato più percettivo, un lato più sensibile, un lato che va al di là di quel lato più razionale che normalmente ti caratterizza. Una luna importante, una luna positiva e ti consente veramente anche di vivere con maggiore intensità le situazioni di vita più personale e anche più serie per così dire. Quest'oggi tuttavia l'evoluzione astrale più rilevante è quella del sole che se appartiene alla prima decada potrebbe farsi sentire in un senso un po' smorzante quello che è un equilibrio a cui tu più tieni. Questa energia del sole si va ad aggiungere a quella già disturbante presente da qualche giorno sia di mercurio che di venere che è come se ti inducessero così ad avere qualche difficoltà nel rapportarti nei confronti di persone e situazioni con quel consueto atteggiamento metodico, razionale, nitido che nuovamente ti caratterizza. Non tutte le tue valutazioni quindi risultano perfettamente in linea rispetto alla realtà che ti trovi a doverti affrontare o con cui ti trovi a doverti così confrontare sia nel privato che in ambito più serio e professionale. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata. Ti aspetto! Per te estetica e creativa bilancia, ancora una giornata decisamente interessante, evoluzioni astrali che spostano la tua attenzione, spostano il tenore del tuo modo di rapportarti, di relazionarti con le persone, con le situazioni su un piano molto differente. C'è questa luna importante di oggi che appunto ti influenza se appartieni particolarmente alla prima e alla seconda decade che in un certo qual modo sposta su un tenore più profondo, più intenso, più sentito il tuo modo emotivo di porti. Quindi un umore ottimale ma non necessariamente così schietto, così aperto come altri influssi astrali di oggi invece lascevano presegire che tu abbia. Infatti quest'oggi va ad aggiungersi all'influenza già positiva di Mercurio e di Venere, anche la presenza del sole sempre se appartiene alla prima decade. Quindi un desiderio di apertura, un desiderio anche di nuovi equilibri, un desiderio di novità che in un certo qual modo è come se andasse a stridere leggermente con questa emotività di oggi colorata dalla luna che ti porta così a radicarti magari su certe sicurezze che magari non gradiresti, che vengono messe in dubbio. Invece quest'oggi appunto Mercurio, sole e venere ti portano sia in rapporti più privati ed intimi, sia in rapporti così professionali ad essere veramente molto più entusiasta e aperto a delle opportunità che ti arrivano. Ti piace l'astrologia? Partecipa ai miei corsi anche personalizzati. Scopri di più nell'info box qui sotto. Per te strategico e inconscio scorpione, giornata decisamente importante, un insieme positiva. Quest'oggi è la luna tua leata, ti consente veramente di sentirti più che mai emotivamente in equilibrio, le tue prorogative caratteriali risultano più che mai enfatizzate, quindi grande capacità di entrare in ottima sintonia con le persone che ti sono vicine, modo di vivere intenso, anche conturbante, passionale, i tuoi rapporti, ogni situazione veramente ti vede gran protagonista con una profondità ancora più spiegata del consueto. Nel contempo tuttavia c'è questa presenza uraniana un po' così infastidente che potrebbe così in un certo qual modo quasi obbligarti, fra virgolette, a confrontarti con delle situazioni che proprio nel senso pratico della loro evoluzione potrebbero così non essere all'altezza delle tue aspettative, potrebbero così evolvere in una maniera differente da quella che ti aspetteresti e quindi così alterando questa profonda emotività che vorrebbe così avere delle sicurezze, avere delle certezze per te importanti, anche se tutto come si suol dire non tutto può essere certo. L'evoluzione importante e più significativa però è questo allontanamento del sole dal tuo segno, con questo arrivo appunto nel successivo sagittario risulta comunque positivo per te, ma è un tipo di energia diverso, energia più presente, energia più se vogliamo superficiale, meno profonda, ma non per questo, meno positiva per te. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata. Ti aspetto! Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso sagittario, giornata decisamente importante, di assoluto rilievo, le 9.20 di questa mattina, il sole arriva nel tuo segno, quindi nuova carica, nuova spinta di ogni situazione che per te risulta importante, grande entusiasmo, grande enfatizzazione di quelle doti caratteriali che ti caratterizzano, di ottimismo, di ampiezza, di saper vivere ogni situazione con grande fiducia, con grande apertura, un po' in ambito privato, in ambito professionale, un po' in tutti i sensi. Questa energia ovviamente si va ad aggiungere a quella già importante di Mercurio e di Venere, sempre presenti nel tuo segno e soprattutto se appartiene alla prima decada e quindi un po' su tutta la linea, appunto lo ripeto, sia a livello privato che a livello più serio e professionale, sei in grado veramente di relazionarti con una capacità di coinvolgere chi ti è vicino con un spiccato entusiasmo, con una capacità veramente di andare al di là di qualunque eventuale ostacolo che per te veramente non esiste. Grande intensità, grande passione quest'oggi, livello emotivo, comunque con questa luna molto intensa, molto appassionata, molto profonda che è come se ti inducessi in un certo quel modo andare anche al di là di quella apertura che invece queste energie planetarie sagittariane ti portano ad avere, magari spostandoti su un piano un attimino più, per così dire, nascosto, ma non per questo, meno interessante per te. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata, ti aspetto. Per te pragmatico e concreto capricorno, giornata dei connotati decisamente interessanti, energie planetarie in evoluzione che ti consentono veramente di avere un atteggiamento diverso, avere un approccio diverso nei confronti delle varie situazioni che ti ritrovi a vivere. quest'oggi infatti il sole nel suo percorso nella sfera celeste, sposta il suo tipo d'energia da quell'approccio più strategico, più nascosto se vogliamo, che può averti indotto ad avere nell'ultimo periodo, è il momento da oggi appunto di ritornare a un approccio più comunicativo, più esplicito, più alla luce del sole, appunto rispetto a questo periodo recente, nelle ultime settimane, vissuto magari in maniera più occulta, più lontana dalla luce di riflettore. Questa energia va ad aggiungersi a quella già positiva di Mercurio e di Venere, quindi in tutti i sensi è come se tu riuscissi a scrollarti di dosso quella tua tendenza magari ad essere molto prudente, molto ponderato, non che tu sia avventato, avventato quest'oggi, ma comunque un atteggiamento in questi giorni che ti porta ad avere un pizzico di maggior fiducia sia nei confronti delle situazioni che delle persone. Quest'oggi comunque emotivamente la luna, se appartiene alla prima e alla seconda decada, riesce comunque a colorare di intensità, a colorare di intuito e anche ancora di strategia a livello emotivo il tuo modo di porti un po' in tutte le situazioni della tua giornata. Contattami per ricevere il tema natale, la sinastria di coppia, i transiti o una consulenza privata. Ti aspetto! Continuiamo con te, frizzante anticonformista acquario, che va incontro a una giornata decisamente ottimale, a un'evoluzione astrale tutto sommato liberatoria sotto un certo profilo, anche se c'è ancora qualche nuvole all'orizzonte per quanto riguarda il tuo umore. L'evoluzione astrale più significativa è sicuramente questo allontanamento finalmente del sole che si era fatto sentire negli ultimi giorni, soprattutto per i nati dell'ultima decada, in un senso smorzante quello che è il tuo consueto tenore energetico, da oggi risulta decisamente positivo per i nati della prima decada e quindi si aggiunge questa energia, questo tono, questa carica di positività a quella già presente grazie a Mercurio, a Venere e Propizzi. Quindi una buona forma generale, una capacità di impegnarti, di consentire anche a chi ti è vicino di fruire di questa sorta di energia, di positività che riesce veramente a trasmettere in maniera molto positiva. Questo oggi soltanto se appartiene la prima e la seconda decada potrebbe farsi sentire questa presenza della luna non troppo favorevole, quindi un pizzico di smorzamento su un altro, su un piano emotivo di questa grande carica, di questa fiducia, di questa capacità veramente di essere esplicito e esplicita come non lo eri magari da un bel po' di tempo. Una cosa temporanea, però appunto per i nati della prima e della seconda decada potrebbe farsi sentire così questo umore un po' alterato a causa appunto di questa luna non troppo favorevole. Ti piace l'astrologia? Partecipa ai miei corsi anche personalizzati. Scopri di più nell'info box qui sotto. Concludiamo con te fantasioso e profondo pesci che vai incontro una giornata dai connotati altalenanti, energie in campo che mutano, che evolvono in una maniera così anche un po' inaspettata se vogliamo, questo tuo desiderio, questa tua necessità in un certo quel modo di andare in profondità, di così anche allontanarti da quel turbinio di energie che ti ruotano attorno, potrebbe così in un certo quel modo venire meno. Questa evoluzione astrale del sole che cessa di esserti favorevole se appartiene all'ultima decada, divenendo a quanto dissonante se appartiene alla prima, è come se ti inducesse a far fatica a trovare il tuo centro, a sentirti perfettamente a tuo agio nelle varie situazioni. Questa energia va ad aggiungersi a quella di Mercurio, a quella di Venere che allo stesso modo è come sui diversi piani, sia mentale sia affettivo, ti inducesse in un certo quel modo a così non avere una percezione del tutto obiettiva in estrema sintesi delle situazioni, delle persone, di ciò che ti ritrovi ad affrontare. Anche il tuo modo di pensare, il tuo modo di ragionare, il tuo modo di rapportarti è come se risentissi di questo insieme di energie che ti impediscono di avere quella linearità, quel equilibrio, quella obiettività che normalmente ti caratterizza, o comunque di riuscire ad andare a fondo quanto vorresti. Ti aiuta quest'oggi comunque la Luna a recuperare almeno emotivamente un pizzico di buon equilibrio se appartiene alla prima e alla seconda decade. Planetarium in arrivo a dicembre. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove, se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se vuoi metterci dei commenti saranno molto graditi, se vuoi attivare la campanella per le notifiche, se vuoi iscriviti al canale per non perdere nessun aggiornamento e anche se vuoi sostenere il canale cliccando sul link che trovi nel box sottostante. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale domani mattina alle ore 7 e ti auguro che gli Asti veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao! Planetarium In arrivo a dicembre